20 dicembre 1995. In seguito agli accordi di pace di Dayton, che mettono fine alla guerra civile nell'ex Jugoslavia, viene dispiegata in Bosnia una forza multinazionale guidata dalla Nato, allo scopo di mettere fine alle ostilità e di costituire un governo centrale con l'avvio di programmi per la ricostruzione del paese. L'ammiraglio Layton W. Smith Jr. viene posto a capo della missione, cui partecipano militari di 32 paesi, incaricati di sostituire le forze di peacekeeping dell'ONU.